Sorriso verticale Il mio docente universitario è affascinante. Ha un parlare superbo e un magnetismo a cui molte studentesse non resistono. Ieri, durante un'esercitazione, ci ha detto che lui è affascinato dal nostro sorriso verticale. «Che cos'è il sorriso verticale?» gli abbiamo chiesto. «La vostra vulva ci ha risposto. Perché?» Commento «Perché il docente ha un corpo mentale molto organizzato, per cui è molto intelligente, ma ha uno scarso sentire, perché indulge ed indulge al corpo fisico.» Grazie 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 Grazie